Ciao a tutti e bentornati, continuiamo con la nostra playlist dedicata al Blender e nel tutorial di oggi andremo a vedere in che modo applicare dei materiali agli elementi che abbiamo introdotto allora, quello che facciamo è subito andare ad introdurre un nuovo elemento, un piano e questo come al solito lo possiamo fare o utilizzando l'opzione Add quindi possiamo introdurre una mesh e introdurre il piano ma come al solito Shift A per poter introdurre direttamente il piano in questo modo lo scaliamo, quindi tasto S e lo ingrandiamo in questo modo, ma anche più grande ok, allora quello che facciamo è andare ad introdurre anche Shift A e un altro elemento che potrebbe essere ad esempio una obvious sphere in questo caso quindi come vedete si trova all'interno del nostro cubo ma per selezionarla quindi adesso se noi andassimo ad applicare l'opzione Scale andremo ad applicare all'elemento che abbiamo appena introdotto tasto G per spostarlo in questo modo andiamo ad introdurre un altro elemento, Shift A e potrebbe essere ad esempio un toro adesso come vedete è rimasta attiva l'opzione G e ce ne andiamo a spostare in questo modo tre elementi possono bastare adesso poniamoci in posizione 3 quindi con la vista sul piano Z, Y come vedete il piano non si vede adesso selezionando tutti e tre gli elementi quindi tasto sinistro del mouse più Shift li abbiamo selezionati tutti e tre e adesso se li andiamo a spostare effettueremo lo spostamento di tutti e tre gli elementi spostiamoci ancora il toro e andiamo a scalarcelo un pochettino spostiamolo ancora a G S Scale G per muoverlo ok adesso la rotella centrale del mouse per agire all'interno dello spazio un aspetto importante della rappresentazione grafica dei vari elementi è che se adesso selezioniamo abbiamo selezionato il toro quindi clicchiamo col tasto destro ci appare questo menu che ci permette di andare a modellarlo o a renderlo visibile in maniera Smooth quindi come vedete sono sparite le sfaccettature oppure Flat in questo caso abbiamo la possibilità di vedere le facce dell'elemento quindi Shade Smooth lo ripetiamo anche per la sfera Shade Smooth quindi spariscono le sfaccettature e abbiamo una rappresentazione che sarà perfettamente Smooth questa è soltanto una rappresentazione grafica nella realtà l'elemento che abbiamo introdotto presenta quelle particolari caratteristiche quindi qualora non le andassimo a modificare ad esempio scolpendolo o editandolo quindi io ogni volta che entro in Edit Mode premendo Tab come vedete rimangono attive il numero di facce che avevo precedentemente quindi quella che abbiamo visto è semplicemente una rappresentazione visiva di questa forma Smooth dell'elemento nella realtà poi quello che abbiamo è un elemento che presenta le caratteristiche iniziali da cui poi possiamo partire ad esempio per modificarlo andiamo a vedere che cosa si vede dalla nostra camera ok allora quello che facciamo al solito andiamo a scegliere una immagine sufficientemente grande della nostra rappresentazione quindi è la nostra finestra quella chiara e lo zoom semplicemente poi clicchiamo sul tasto N al solito ci spostiamo in View e andiamo a bloccare la camera sulla vista la camera c'è in View adesso possiamo agire sulla nostra sistema zoomando la camera adesso è la camera che si sta spostando come abbiamo visto nel tutorial precedente quindi abbiamo questi tre distinti elementi come al solito abbiamo le rappresentazioni adesso abbiamo il display in solid mode che è quello che ci permetterà di lavorare la maggior parte del tempo con questo abbiamo anche una rappresentazione che tiene conto del materiale perché questa è proprio la rappresentazione che ci permette di vedere le proprietà del materiale poi ovviamente abbiamo l'ultima rappresentazione che è quella che ci permette di effettuare i rendering vero e proprio di mostrarci effettivamente come sono disposte ad esempio le ombre lo vedete quindi l'ombra è disposta correttamente in questa direzione in questa e in questa direzione ok quindi teniamo premuto il tasto centrale del mouse e possiamo giostrarci ok allora quello che dobbiamo fare è adesso andare ad applicare un materiale ai nostri vari elementi per poter lavorare sulle proprietà quindi del materiale possiamo procedere in due maniere distinti adesso le vedremo in maniera parallela perché poi il significato è praticamente lo stesso anche se nella maggior parte dei casi lavoreremo utilizzando lo shading quindi adesso vado a cliccare su shading ecco che cosa mi apparirà mi apparirà un diciamo spazio che mi permetterà di definire i materiali utilizzando dei nodi e sarà un processo interessante e complesso però vedremo ci permetterà di fare delle cose veramente incredibili ed abbiamo la possibilità di intervenire quindi questo è lo shading nella parte destra abbiamo anche la possibilità di definire un nuovo materiale potevamo farlo anche dalla parte destra e nello shading come vedete abbiamo la possibilità di lavorare anche sui nostri elementi abbiamo la possibilità di vedere quello che succede come vedete automaticamente è spostato sullo shading perché in questo particolare frangente e questo particolare spazio diciamo riguarda esclusivamente l'applicazione dei materiali se adesso vado a cliccare su new allora indipendentemente dal fatto che clicchi su new nel lato destro e su new nel lato sinistro otterrai lo stesso tipo di risultato mi verrebbe ad essere introdotto in forme differenti lo stesso la stessa rappresentazione lo stesso principio con cui verrebbe applicato il materiale alla superficie ok bsdf shader in questo caso che è quello che viene utilizzato per default e poi abbiamo tutta una serie di opzioni che possiamo applicare al materiale che vengono ripetute anche in questa rappresentazione nodale che abbiamo all'interno dello shading quindi questi due elementi sono praticamente parallele l'unica differenza sta nel fatto è che io come vedete ho diverse connessioni a cui posso aggiungere differenti nodi che determineranno comportamenti differenti sul materiale che è una possibilità che in questa particolare rappresentazione non ho ho soltanto all'interno dello shading ma inizialmente diciamo partiamo dallo stesso tipo di concetto cioè che quello che vediamo qui rappresentato è quello rappresentato nell'elemento verde diciamo come vedete abbiamo questi elementi possono essere selezionati singolarmente e spostati posso interrompere il collegamento interrompendo questo collegamento sparirà il colore cosa che non posso fare ad esempio nella parte destra delle proprietà del materiale allora cominceremo lavorando dalla parte sinistra e quindi posso intervenire per prima cosa sul colore base quindi vado a selezionare la sfera in questo caso e posso andare ad applicarli un semplice colore come vedete cambiando il colore all'interno di questo elemento cambierà il colore della sfera posso cambiarne anche la tonalità intervenendo su questo elemento e poi ho tutta una serie di altre possibilità di intervento che riguardano il fatto di applicare un materiale che abbia una resa più o meno metallica quindi quando il valore metallic è praticamente zero è come se avessi a che fare con un materiale di tipo plastico aumentando questo tipo di valore vedete che il comportamento della sfera cambia fino a diventare completamente metallica ed ovviamente come avete visto questo tipo di comportamento o zoomando potete avvicinare tenendo premuto il tasto centrale del mouse potete spostare questi elementi questo cambiamento è avvenuto anche all'interno del del principle BDE come si chiama BSDF shader ok allo stesso modo se intervengo su questo automaticamente mi si sposta anche dall'altro posso aumentare la specularità dell'elemento quindi avere un comportamento più o meno a specchio posso definirne il valore di roughness come vedete addirittura quindi si riflettono anche le ombre ovviamente ho tutta un'altra serie di possibilità potrei renderlo potrei farlo diventare un materiale emissivo e così via li vedremo con calma e vedremo a che cosa servono tutte queste proprietà e che tipo particolare di resa ci possono dare allora adesso andiamo a selezionare il secondo elemento e come vedete per il secondo elemento mi si viene a specificare direttamente il materiale che sarà un materiale differente ma se io andassi a cliccare all'interno di questo slot allora questi altri due materiali avevo fatto delle prove non fanno testo o posso andare ad applicare a questo cubo lo stesso materiale che ho scelto per la sfera allora se procedessi in questo modo cliccando come vedete otterrei lo stesso tipo di materiale con lo stesso tipo di caratteristica il problema è che in questo caso andando a selezionare il materiale ad esempio vado a cambiare il valore di roughness viene cambiato per entrambi quindi procedendo in questo modo ho applicato lo stesso materiale e applicando lo stesso materiale a due oggetti diversi variando il materiale mi varia il materiale per i due oggetti ok quindi questo è importante perché è il modo che ha il blender di ragionare ho un materiale se ha più questo materiale ad un altro oggetto allora automaticamente quest'altro oggetto avrà le stesse caratteristiche del primo oggetto ed il materiale sarà lo stesso quindi se intervengo sul materiale intervengo sul materiale di entrambi gli oggetti per avviare questo tipo di problema devo utilizzare new material come vedete io ho scelto in questo modo un nuovo materiale che da un punto di vista di partenza è quello che il materiale aveva però se adesso andassi ad intervenire sulla roughness del materiale ad esempio verrebbe ad essere variato esclusivamente il valore di roughness del cubo e non del materiale metallico e non della sfera scusate adesso posso cambiare il colore e cambiare ad esempio anche il valore di luminosità quindi interveniamo con un verde più acceso facciamolo più metallico e meno speculare in questo modo e allo stesso modo quindi se adesso clicco sul terzo elemento posso andare ad applicarli o uno dei materiali precedentemente utilizzati e distinguendolo poi ricorrendo al tasto che abbiamo visto in precedenza oppure clicco direttamente su new mi apparirà al solito lo stesso shader praticamente con delle caratteristiche che possa andare adesso a variare perché questo materiale è diverso dagli altri due ad esempio lo facciamo di questo colore qualsiasi colore scegliete non fa differenza e lo facciamo metallico aumentandone il valore di roughness diminuendo il valore di roughness in questo modo quindi questi sono i tre elementi che abbiamo a disposizione adesso selezioniamoci anche il piano selezioniamo un nuovo materiale anche per il piano accontentiamoci di un posso intervenire come abbiamo detto anche da questo lato quindi con un valore di roughness basso in modo che sia in grado di riflettere il colore ne cambiamo il colore facciamolo più scuro in questo modo quindi abbiamo visto in che modo questi due elementi sono fra di loro collegati o almeno questo è collegato con questo poi l'output e tutti i vari input che potremo aggiungere permetteranno di ottenere delle differenziazioni notevoli ma almeno in partenza questi due concetti sono la stessa cosa rispostiamoci in layout e abbiamo dunque una rappresentazione dei nostri elementi in modalità in questo caso con rappresentazione con la nostra possibilità di vedere come avverrà il rendering del materiale allora clicchiamo sul piano clicchiamo su S e andiamo a scalarci ulteriormente in modo da far scomparire i margini il vuoto oltre questi margini non mi piace il colore del pavimento clicco sul piano e lo vado a fare ecco un valore di 0,5 è più che sufficiente in modo da poter vedere anche la rappresentazione delle ombre e così via e adesso potremo andare ad effettuare il rendering allora schiaccio il tasto N per far sparire questa rappresentazione questa finestra allora mi posso spostare quindi a selezionare il nostro motore e vediamo qual è la differenza che esiste quando utilizziamo Livi oppure quando utilizziamo Cycles come vedete allora ovviamente impiegherà molto tempo come vedete il tempo dipende dal numero di oggetti presenti i nostri computer non saranno sicuramente adatti ad effettuare questo tipo di operazione io lo faccio vedere soltanto per motivi praticamente di quindi a titolo di conoscenza diciamo vedremo che poi nella maggior parte dei casi utilizzeremo EVE e fino a un determinato livello diciamo i due motori saranno praticamente simili e poi vedremo che per determinate rappresentazioni non sarà necessario ricorrere al al Cycles quindi questa sarebbe la nostra rappresentazione adesso potremmo quindi chiamare il rendering dell'immagine semplicemente quindi schiacciando su render e render image e poi potremmo andare a salvarci l'immagine ok quindi questo è in Cycles vediamo che cosa succede in IVE vedete che la differenza è notevole soprattutto almeno da un punto di vista della rappresentazione di fenomeni come la specularità degli elementi considerati che fino a un determinato punto o a seconda di come andremo a lavorare con i materiali possiamo ottenerla anche in IVE ma poi dovremmo comunque procedere in maniera differente per ottimizzare quindi diciamo per ingannare tra virgolette la nostra rappresentazione grafica possiamo attivare l'ambient occlusion e screen space reflection in modo da avere il riflesso sui piani come vedete adesso ha un comportamento analogo a quello del Cycles che lo aveva in automatico mentre in questo caso dobbiamo attivarlo in questo modo però diciamo l'IVI adesso ci permette di ottenere dei risultati analoghi al Cycles ok quindi abbiamo visto in che modo applicare il materiale ai vari elementi e in che modo il programma Blender ragione in termini di materiale poi vedremo quanto può diventare complesso il discorso sui materiali ma lo daremo con calma in questa prima fase diciamo abbiamo visto in che modo andare ad applicare il materiale ai nostri elementi e per oggi diciamo è tutto come al solito se il video vi è piaciuto è servito scrivete vi mettete mi piace commento